Stadio Angelo Massimino, buon pomeriggio da Stefano Uteri, mercoledì atipico, mercoledì di campionato qui in terra Etnea dove tra pochissimo andrà in scena Catania, Avellino Attenzione a Biondi, 1-2 con Calapai, tocco nuovamente per il numero 26, il cross al centro, Curiale, la conclusione sul fondo Però c'è stata una deviazione, l'ultimo tocco da parte di un... Intanto calcio di punizione, battuto con il sinistro, ampiamente a lato C'è una stagione di attesa per tanti versi, intanto Curcio di prima intenzione, la conclusione con il Mancino Improvvisamente Curcio Poi costretto a tornare indietro, si affida Di Paolo Antonio Vediamo così in venta il numero 7 che rientra sul destro, la conclusione Parte di Di Paolo Antonio, palla sul fondo Parte di Molfetta, sempre in bende, la conclusione, la parata di Tonti In allungo, l'estremo difensore dell'Avellino a dire di no Ottima scelta di tempo di imbende Castello di Mister Lucarelli, parte di Paolo Antonio, palla sul secondo palo Il colpo di testa, Furlan, la palla rimane lì e la rete Il gol dell'Avellino, la rete di Zullo Era riuscito solamente per un attimo Furlan a intervenire sul pallone Gioco per Biagianti, poi Rizzo sventagliata all'interno dell'aria Bertolo di testa, Biondi non si accontenta, palla al centro per Curiale Non la trova e poi la rete Sul secondo tentativo, Davis Curiale riporta in parità il parziale Un primo intervento che non era stato risolutivo La palla è rimasta lì come in occasione del gol dell'Avellino E stavolta Pinto Sempre col suo sinistro, palla al centro Poi arriva Calapai, la conclusione mancina Palla che arriva Docile fra le mani di Tonti La tiene lì Guardate come parte in velocità Ancora Mikoski, Romeno, due uomini sull'out di sinistra La palla per Izzillo La conclusione di Izzillo Che termina sul fondo Che brivido per Furlan Uno contro uno, Mikoski contro Silvestri Rientra verso il centro, ancora Mikoski Poi di Paolo Antonio, la conclusione sul fondo Con il destro La rincorso, un uomo in barriera Parte Sarro, la sua conclusione Palla che rimane a disposizione di Tonti Che in due tempi riesce a far la sua Visente, Mbende Parte il cross, verso Silvestri Tonti in calcio d'angolo Viene contrastato fisicamente Trattenuto all'interno dell'aria Cadono a terra ed è Calcio di rigore Calcio di rigore La trattenuta Su esposito Adesso cerchiamo di capire Probabilmente è stato Morello Arriva anche l'espulsione Per un giocatore dell'Avellino Lucarelli che dice ai suoi di andarsene Ma Arriva il fischio La ricorsa di Sarno La rete Catania 2 Avellino 1 Il gol di Vincenzo Sarno L'esplosione della panchina del Catania Tutti ad abbracciare Vincenzo Sarno Tutti i giocatori dell'Avellino invece a protestare Prima col direttore di gara Poi con L'assistente Probabilmente per Sarno Adesso dall'altra parte Sarno verso Barisic Tocca al centro Barisic La conclusione Tutti e poi Sarno La rete del Catania Vincenzo Sarno La doppietta Del numero 7 Punto esclamativo Dopo il calcio di rigore A porta vuota Il gol di Vincenzo Sarno Luca Relli Che avevano fatto Un po' inasprire Il rapporto suo Con parte della tifoseria E arriva adesso Il triplice fischio Del direttore di gara Gli applausi del Massimino Per un catania